oggi è l'ultimo buongiorno che vi do che poi per 15 giorni non può passativamente sono arrivato in clinica lo sapete che ho solo una parola real non sti quattro chiacchiere però va bene non ve la posso fare vedere un po così un po così ma non vi posso dire il nome perché non si può dire niente cavalli ultimo video che faccio vi saluto ma vi mando un bacio ci sentiamo tra 15 giorni perché non potrò usare il telefono a per precisare cavalli non è solo di 15 giorni e cioè per 15 giorni tassativamente non posso usare il telefono poi me lo fanno usare una volta a settimana e poi dopo tipo un mese e mezzo me lo fanno usare bu tre volte comunque in clinica penso che ci starò quattro mesi quindi lo so che vi mancherò anch'io e mi mancherete anche voi non voglio dargli il telefono cazzo corro via niente io devo dare il telefono porca cavalli non voglio darglielo invece glielo devo dare va bene ci vediamo tra 15 giorni